Ragazzi nel video di oggi voglio parlarvi di un BMS particolare della stessa famiglia degli LRX e ha la caratteristica di essere molto molto affidabile ecco perché l'ho inserito nella playlist il mega impianto perché ha una forte affinità con l'LRX ebbene questo BMS è formato da schedine c'è una schedina in e c'è una schedina out che sono le primarie ebbene se ne sommiamo altre 2 facciamola 12 volt se ne sommiamo altre 6 facciamola 24 volt se ne sommiamo fino a un massimo di 16 abbiamo la 48 volt ebbene questo BMS è componibile l'importante è rispettare la schedina iniziale e finale tutte le altre sono quelle aggiuntive ha delle caratteristiche eccezionali per quanto riguarda l'affidabilità e soprattutto utilizziamo in diretta le batterie come nel caso dell'LRX senza passare attraverso BMS che ci obbligano ad avere passaggi dal B- al P- con i MOSFET eccetera qui è tutto passaggio diretto e ha il controllo delle celle ragazzi il tempo di iscrivervi al canale e vediamo tutto alla descrizione buona visione ebbene ragazzi come dicevo all'inizio questo BMS ha l'affidabilità dell'LRX della stessa famiglia e ha tra l'altro il controllo attraverso dei relay che possono essere pilotati può essere visto in bluetooth può essere ha i sensori di temperatura i sensori ovviamente delle singole celle e dal telefonino possiamo vedere la condizione di tutte le celle attraverso l'app dedicata bene c'è un'affidabilità forte e questo è quello che serve a noi per i nostri impianti adesso ragazzi il tempo di salire in macchina e mi recherò nel Veneto e saluto l'amico Mauro che l'ha installato nel suo camper e andremo a vedere tutti i dettagli di come funziona come va configurato insomma come al solito tanti dettagli questo ha una particolarità lo dicevo all'inizio si attacca direttamente cavi positivi e negativi sulle batterie quindi abbiamo la potenza massima delle batterie il controllo delle celle ebbene questo BMS con le due schedine fondamentali di ingresso e uscita può pilotare due relè questi due relè pilotano a loro volta quello che può essere lo sgancio dei pannelli in caso di emergenza lo sgancio della batteria in caso di emergenza e poi anche possono essere abbinati degli shunt per il controllo degli ingressi e delle uscite rispetto all'ingresso pannelli e all'uscita verso l'inverter insomma molte funzioni in piccole schedine che vanno attaccate proprio sui poli della batteria tutta la spiegazione direttamente dal camper di Mauro che saluto caro amico Mauro sempre disponibile e dopo di che passiamo per le considerazioni finali sempre qua in ufficio buona visione eccoci ragazzi nel camper di Mauro sempre disponibile questo è il suo pacco batterie 12 volt molto potente batterie della mania ovviamente qui c'è anche il bestione arancione sulla sinistra e poi vediamo i DCDC charger della Victron che lui ha montato questi sono 12-12 cioè dalla 12 volt dell'alternatore alla batteria servizi 30 ampere l'uno e sono due qua vediamo invece l'MPPT lo Smart Solar il controllo solare da 100 volt 50 ampere c'è una ventola di raffreddamento del vano e questo è il pacco batteria adesso lo apriamo così guardiamo all'interno il BMS in tutti i dettagli l'123 Smart BMS ecco aperto il vano batterie abbiamo una 12 volt con tanti ampere perché questo è un 2P4S vediamo adesso i dettagli delle schedine qui vedete il cavetto nero di alimentazione che è connesso al polo negativo più vicino al PCB e poi questo cavetto lungo nero lo vedete qua aspetta eccolo qui questo cavetto è praticamente tutte le quattro schedine PCB sono connesse tra di loro appunto per comunicare questo è come viene configurato voglio spiegarvi un po' meglio qui vedete il cavetto nero è esattamente l'alimentazione della schedina PCB qui c'è il secondo cavetto nero questo qua vedete poi c'è il terzo cioè questi cavetti sono esattamente il prelievo del negativo dell'alimentazione questo è l'ultimo per alimentare la PCB mentre il polo positivo della batteria ovvero il busbar lo vedete lì il primo positivo e questo qui è praticamente quello che alimenta il PCB quindi preleviamo il positivo e il negativo in questo modo vedete? questo c'è l'altro PCB il terzo direttamente sul polo positivo in questo modo i PCB vengono alimentati e agiscono come devono con tutti i sensori e quant'altro poi vediamo anche questi cavi che sono questi colorati che sono esattamente l'equalizzatore attivo che ovviamente scegliamo quello che vogliamo noi come avviene il collegamento ragazzi? ebbene partiamo dal primo polo positivo queste ovviamente sono batterie 2P4S quindi le vedete in parallelo vedete che la schedina è stata montata sul polo positivo e invece il cavo direttamente sulla batteria questa è l'altra schedina quella intermedia che va sul secondo gruppo questo sul terzo gruppo vedete che c'è il cavo grosso che fa la connessione e poi l'ultima schedina sempre sul polo positivo dell'ultima batteria il cavo negativo rimane libero come potete ben vedere qua ok? quindi questa è la connessione come va fatta tutti sui poli positivi delle batterie e l'alimentazione viene presa ovviamente con un cavetto negativo in questo caso lo vedete qui da 2,5 mm quadri ok? lo shunt viene posizionato sul cavo positivo possono essere anche due shunt per una doppia gestione questa schedina la prima si chiama end è quella in uscita e questa è la begin cioè quella in entrata e qui si ha la gestione dei due shunt è precisamente su questa schedina quella in entrata che vengono connessi i due shunt e qui abbiamo i cavi ovviamente diretti sulle batterie per il massimo prelevo della potenza qui vediamo nei dettagli il dip switch che è settabile qui possiamo programmare quante celle abbiamo possiamo stabilire il minimo il massimo della cella affinché lui intervenga possiamo stabilire diversi parametri e una cosa che mi piace dei dip switch che non sbagliano mai perché sono meccanici non è un software non c'è un azzeramento come a volte avviene nelle strumentazioni analizziamo adesso il PCB questo viene chiamato handboard cioè è la scheda in uscita attaccata sul polo positivo e qui vediamo chiaramente i due relais eccoli qua uno e due che servono a pilotare le uscite chiaramente questi scegliamo noi come pilotarli cioè normalmente vedete qua normalmente chiuso normalmente aperto e proprio in funzione di un'escursione della cella se la cella dovesse andare troppo in alto o troppo in basso bene i due relais attivano o disattivano proprio le connessioni per quanto riguarda l'ingresso o l'uscita in questo modo abbiamo una gestione totale vi dicevo all'inizio del video proprio modello LRX in questo modo abbiamo il controllo totale in sicurezza su ogni PCB cioè su ogni schedina c'è il sensore di temperatura quindi in questo caso che è un 4S la 12V abbiamo 4 sensori di temperatura che gestiscono totalmente le celle la cosa importante è che queste sono le schedine quelle aggiuntive che sono praticamente la seconda e la terza la vedete qui nei dettagli vedete questa è la seconda questa è la terza sono quelle che costano poco e vengono aggiunte fino alla 48V mentre la prima e la seconda queste due queste sono quelle effettivamente costose e che hanno sopra il relè vedete e il controllo degli shunt sulla begin che è questa sul polo negativo insomma le due costose sono queste le altre sono aggiuntive facciamo le tensioni che vogliamo questa ragazzi è la schermata dal telefonino vedete in alto ci sono i pannelli poi la batteria è sotto il carico in uscita molto semplice molto sobria ci dà tutti i dettagli che ci servono per controllare in bluetooth tutto ciò che avviene all'interno della nostra batteria ci dà una percentuale di shock le condizioni generali e quanto ci serve questi pallini che vedete sono i due relè vedete che pilotano esattamente l'ingresso e l'uscita quindi se c'è un'anomalia adesso sono verdi tutto normale diventano rossi cioè sono intervenuti in funzione delle celle passiamo all'altra schermata qui vediamo la condizione delle celle a sinistra abbiamo i voltaggi e a destra la temperatura vi dicevo che ogni schedina ha il sensore di temperatura quindi abbiamo la temperatura per ogni cella singola della nostra batteria in questo caso 2p4s vedete qua 14 gradi e poi la cosa interessante è che abbiamo in alto la condizione delle celle vedete qua 3,32 è la massima tensione 3,31 è la minima tutto sotto controllo in un'app semplice però molto molto chiara ovviamente se invece di 4 celle usassimo questo prodotto per casa avremo 16 celle tutte in lista qua adesso andiamo a sfogliare e vediamo qua c'è scritto no log entry found qui ci dà anche le segnalazioni eventuali e l'altra videata invece ci fa vedere molti dettagli quindi quindi il picco solare il picco dell'inverter la capacità delle batterie insomma tutti dettagli importanti e vediamo anche la videata successiva che ci fa vedere ulteriori dettagli vedete scorrendo qui abbiamo le varie percentuali di carica di scarica ecco questo è molto importante sono le tensioni minime di intervento la tensione massima e l'inizio del bilanciamento vedete questo è un bilanciatore questo bms è passivo quindi va a bilanciare quando vogliamo noi ed è meglio tenerlo alto preferisco utilizzare l'equalizzatore attivo queste sono tutte le funzioni ragazzi la cosa interessante sono tornato sull'immagine iniziale perché con questi due pallini pilotiamo il relè se clicco qui blocco l'uscita verso l'inverter e se blocco qui blocco l'ingresso dai pannelli questa è una funzione molto importante ovviamente ragazzi questo è un impianto bluetooth quindi abbiamo tantissime cose in bluetooth non è un wifi però è molto molto chiaro molto semplice vedete vi faccio uno scroll ancora delle immagini cioè possiamo veramente fare tutti i settaggi e avere il controllo veramente con un'altissima affidabilità classica di queste apparecchiature spero questo video vi abbia colpito sia stato interessante come risulta dai vostri commenti e dei quali vi ringrazio ebbene abbiamo scoperto un nuovo prodotto abbiamo visto le funzionalità nei massimi dettagli come al solito chiaramente questa serie come tutte le playlist non hanno mai fine ci saranno tanti altri video tante altre sorprese a vostro beneficio ragazzi grazie di tutto quello che state facendo per questo canale iscrivetevi se è vostro piacere e ci vediamo al prossimo video buona serata grazie a tutti grazie a tutti